Diritto e Società, una rubrica vicina ai nostri spettatori, iscriviti con un clic. Un saluto ai nostri telespettatori, oggi parleremo di un argomento di assoluta attualità, le truffe online. Noi cittadini siamo titolari di un patrimonio incredibile, che molto spesso non riusciamo a valorizzare, e sono i nostri dati. I nostri dati sono oggetto di monitoraggio dal cellulare ai social ai quali partecipiamo, dando il consenso senza neanche rendercene conto di quello che sottoscriviamo, e sono oggetto di cessione tra le varie imprese che sono sul mercato per vendere prodotti o servizi, a fine di avere un plafond ampio di soggetti ai quali sottoporre le loro offerte. Nel momento in cui entriamo nei social tipo Facebook e lasciamo i nostri dati perché magari siamo affascinati da una pubblicità dove ci viene promesso un qualche cosa di miracoloso, una dieta in pochi giorni, oppure la vendita di un prodotto quale può essere un cellulare a un prezzo stracciato o addirittura a titolo gratuito, noi forniamo tutti quelli che sono i nostri dati che domani consentono ai soggetti sia che operano correttamente sul mercato che quelli che operano in maniera scorretta, di poterci contattare, di poterci bombardare con una serie di richieste creando in noi quella aspettativa e soprattutto a volte quella dipendenza psicologica che ci porta ad accettare anche dei contratti o delle prestazioni o dei prodotti che in un'altra occasione con un momento di riflessione diversa probabilmente non accetteremo, non valuteremo assolutamente. In questo scenario dobbiamo essere assolutamente attenti nel momento in cui forniamo i nostri dati, i nostri documenti di riconoscimento perché possono essere contraffatti, possono essere utilizzati da persone per effettuare truffe ben più ampie e possono crearci una serie di problematiche che avremo difficoltà prima ancora di affrontare e risolvere, addirittura di comprendere come possa esserci successo di trovarci una dinamica del genere. In questo ambito una truffa che oggi è all'ordine del giorno è quella che ci viene propinata come il trading online, cioè la possibilità per noi semplici consumatori di poter partecipare a investimenti borsistici dove ci vengono promesse dei guadagni estremamente importanti, addirittura ci viene promesso il 100% del capitale. I nostri interlocutori si presentano come soggetti particolarmente capaci, ci affascinano con tutte quelle che possono essere le nozioni che ci forniscono sul mondo della borsa, su come fare trading e ci seguono, ci portano per mano all'interno di un mondo dove ci sentiamo anche coccolati perché sentiamo una presenza di questi soggetti che ci invitano a valutare determinati acquisti di azioni, di obbligazioni o investimenti in fondi o anche operazioni tecniche molto articolate che però ci spiegano in maniera semplice e ci spingono a investire somme anche ingenti molto spesso contro la nostra stessa volontà, facendoci magari rappresentare, vedere su delle schermate che vengono create appositamente quelli che possono essere i guadagni stratosferici. Chiaramente ci chiedono una serie di documentazioni della nostra vita privata, ci chiedono di accedere a documenti di riconoscimento, anche a bollette delle utenze perché hanno necessità di creare delle strutture all'estero molto spesso in paradisi fiscali dove poi ci invitano a mandare i soldi che sostengono, vengono investiti in borsa solitamente in borse estero, addirittura Wall Street, per farli fruttare. Parliamo di soggetti estremamente abili, soggetti che hanno una grossa capacità perché a differenza del semplice truffatore che magari si accontenta di poco, parliamo di soggetti particolarmente qualificati. Il consiglio è innanzitutto di evitare quanto più possibile di lasciare traccia di quelli che sono i nostri dati sensibili, i nostri documenti sui social, di stare attenti quando andiamo a proporre, andiamo a valutare contratti, a firmare atti anche in via telematica, di stare attenti a quelli che sono i nostri interlocutori. Nel momento in cui abbiamo anche solo il sentore che possa esserci un qualche cosa quantomeno di poco chiaro in quello che ci viene propinato, in quello che ci viene sottoposto, è bene immediatamente parlarne con amici, parenti, professionisti per capire se il nostro interlocutore è un soggetto affidabile, perché se è affidabile tanto di cappello perché per fortuna esistono ancora delle imprese, delle attività che riescono con una modalità smart quale può essere quella del social darci contezza di un mercato più ampio che possiamo raggiungere velocemente. Però all'interno di questi soggetti, o comunque in maniera parallela a questi soggetti, ci sono sicuramente dei truffatori che vanno bloccati immediatamente. Nel momento in cui immaginate di avere un interlocutore di tal fatta, è opportuno che ci contattiate o contattate altri avvocati per poter confrontarvi, per poter capire che cosa state andando incontro, che cosa state sottoscrivendo, quali sono gli impegni per i quali vi state impegnando. Perché se un tempo, vent'anni fa, trent'anni fa, le truffe classiche erano quelle dei soggetti che venivano a bussare alla porta per vendere le enciclopedie, e magari ci facevano sottoscrivere dei contratti diversi o anche dei contratti lunghi, particolarmente onerosi, e quindi c'era ancora la possibilità di non aprire la porta e quindi lasciare veramente fuori dal nostro ambiente chi poteva essere insistente, oggi vuoi per i lunghi periodi trascorsi a causa della pandemia, vuoi per questo mondo globalizzato che ci consente di poter interloquire anche con chi è dall'altra parte del mondo solamente con un click, è chiaro che se da un lato abbiamo questa grossa potenza nella possibilità di poter avere un mercato mondiale, dall'altro siamo ovviamente soggetti a quelli che possono essere i truffatori che ci possono aggredire in qualsiasi momento. Un saluto ai nostri spettatori. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. Grazie a tutti! Grazie a tutti!